Musica Musica Inizia così la stagione dell'Atletico Pomarico Con la prima partita fuori casa contro il Montemurro Dove vedi i padroni di casa vincere per 1-0 sull'Atletico Il modulo schierato durante il primo tempo dal mister Cetera è il 4-5-1 Una partita difficile dove i nostri giocatori hanno sofferto durante i primi 45 minuti Senza mai oltrepassare la linea di centrocampo Nel primo tempo arriva il gol del numero 10 del Montemurro Che coglie una disattenzione difensiva e verrete con un tiro angolatissimo Dove il portiere amore non può fare nulla Finisce così il primo tempo e squadra negli spogliatoi Con l'inizio del secondo tempo il mister Cetera cambia modulo Schierando un 4-4-2 L'Atletico Pomarico inizia a prendere le misure sul Montemurro Proponendosi più volte in attacco con le incursioni di Walter Schiavone Del terzino Lupo Antonio Ed è proprio Lupo Antonio dopo i primi 15 minuti del primo tempo A creare scompiglio in area di rigore Dove cade a causa di una spinta di un giocatore del Montemurro Lupo insieme ai suoi compagni reclama il rigore Ma l'albitro fa proseguire dicendo che è tutto regolare Finisce così la partita dichiarando vincitori padroni di casa Un inizio stagione un po' deludente per il Pomarico Ma che ha saputo reagire imponendosi nel secondo tempo Dimostrando carattere Un Pomarico che avrebbe meritato il pareggio per il gioco espresso Dallo studio è tutto Ci risentiamo ai prossimi aggiornamenti